Lo Svimez ha certificato con i dati pubblicati nelle ultime ore una ripresa nella nostra regione. Segretario, è così? È una ripresa reale? Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno oppure c'è anche dell'altro? Non v'è dubbio che dal rapporto Svimez per il 2017 c'è una crescita del PIL. Il PIL si è stabilizzato a 1,2 e questo è un dato positivo se lo raffrontiamo al 2016-2015 dove la crescita era 0,2-0,6. Quindi il dato è ovviamente positivo. Ci sono delle letture da fare con estrema attenzione. Per esempio noi abbiamo un'agricoltura che ha un trend percentuale di crescita positivo, sopra il 9% rispetto al 2015-2016. L'industria, soprattutto la grande industria, ha retto e ha retto bene. Abbiamo per esempio però il problema della piccola e media impresa, dell'impresa artigianale che continua a soffrire molto. I servizi sostanzialmente hanno tenuto. Il problema è molto serio e quello legato al settore dell'edilizia che ha avuto un tracollo del 14,5%. In una regione dove insistono anche due crateri derivanti da purtroppo due terremoti che abbiamo avuto negli ultimi anni, questo è dove quindi l'edilizia è il settore che dovrebbe riprendere fortemente e questo è un segnale molto negativo che ci preoccupa. Resta l'automotive, resta la Val di Sangro, il traino della nostra regione? Assolutamente sì. È evidente che la presenza di FCA in Abruzzo, in particolar modo con l'insediamento Sevel, è un insediamento che traina e dà un riconoscimento economico a questa regione molto importante. È evidente che la continua espansione anche in termini commerciali del Ducato e la sua produzione, che ormai si è assestata a 300.000 furgoni l'anno, trascinano molto quello che è il dato in più che abbiamo sul sistema industriale.